Dal Comitato Spontaneo Donne di Raiano e dall'Associazione Culturale Nomadi Fan Club di Sulmona arriva questa sera la buona notizia con la donazione e la consegna di un macchinario al reparto al centro di senologia dell'ospedale San Salvatore. Il macchinario costato 30.000 euro è stato donato all'ospedale Aquilano dal Comitato Spontaneo Donne di Raiano che ha raccolto la somma necessaria per l'acquisto attraverso libere donazioni e con un importante sostegno della Fondazione Cari. Spacca progetto contribuito anche l'Associazione Nomadi Fan Club un giorno insieme di Sulmona che ha donato i proventi raccolti nel corso del concerto di Antonello Persico che si è tenuto lo scorso 29 maggio all'auditorium della Guardia di Finanza dell'Aquila e anche quelli in occasione della serata con il contributo di Antonello Persico, di Fabrizio De Andrè sono stati raccolti 10.000 euro. E' stato per noi un onore dichiarato il Presidente Nomadi Fan Club un giorno insieme a Vincenzo Bisestile e contribuire all'acquisto di questo importante macchinario per il Centro di Serologia. Questa iniziativa prosegue il nostro impegno nella solidarietà attraverso la musica d'autore.